Da Agnone vorremmo un giorno suonare tutte le campane perché Agnone ha una voce speciale, una voce particolare per la voce delle nostre campane, suonare tutte le campane a festa per far sì che tutti quanti gioiscano in un momento di libertà, queste campane che notoriamente uniscono, uniranno in un abbraccio comune, questo abbraccio di gioia, in ego campana nunquam denunzi umana, quindi quando suoneremo le nostre campane non annunzieremo una cosa inutile. Giovanni Paolo II 25 anni fa veniva nella nostra terra e da qui ha detto non abbiate paura, e quello che noi possiamo nel nostro piccolo dire a tutti quelli che stanno combattendo questo dramma, dottori, infermieri, medici, artigiani, tutti quelli che adesso stanno cercando di combattere, non abbiate paura. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!